Lo avevano arrestato più volte, era stato anche condannato a tre anni per spaccio per reati consumati a Padova tra il 2017 e il 2019. Aveva ottenuto il diveto di dimora in città come misura alternativa alla detenzione, ma era tornato in strada a vendere droga e per lui si erano riaperte le porte del carcere. Era infine stato rimesso in libertà il 20 ottobre scorso il 1624enne algerino pizzicato dagli agenti della questura di Padova in piazza Gasparotto nel corso di uno dei servizi di controllo messi in atto nella zona ancora una volta con le mani nel sacco. Il 24enne è stato infatti sorpreso mentre si preparava a confezionare dosi di cocaina tagliando le estremità di guanti in cellophane trasparenti. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato. La polizia ha subito avviato le procedure per l'espulsione e condotto il 24enne al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Grazie.